...la presenza dell'assessore, quindi direi di fare un intervento di sintesi. Buongiorno a tutti, Massimiliano Tocco, non c'è più un passo in avanti già da un po' di tempo. Non c'è un passo in avanti per la concretizzazione della ZES, non c'è un passo in avanti per la concretizzazione della zona franca, non c'è un passo in avanti per la concretizzazione dell'attività. ...la presenza dell'assessore, quindi direi di fare un intervento di sintesi. Non so chi... Buongiorno a tutti, Massimiliano Tocco.